Il Museo di Piedimonte Matese chiude al pubblico. La struttura nasce nel 27 ad opera di Raffaele Marrocco, studioso piedimontese al quale si deve la raccolta e la conservazione delle collezioni del Museo Cittadino. Una istituzione che è rappresentato da sempre, seppur con percezioni diverse, orgoglio e vanto della comunità matesina. Proprio mentre ci si doveva preparare a festeggiare il centenario, arriva invece come un pugno in faccia alla città la chiusura dell'importante struttura museale. Via il direttore, perché è un incarico politico e quindi decaduto con i quai giudiziari del sindaco Cappello, ora anche l'unico dipendente comunale che poteva tenere aperto al pubblico la struttura, è stato richiamato dal commissario del comune di Piedimonte in altri uffici. Una beffa per il territorio e il forte rischio, col permanere della chiusura, che i pezzi museali più importanti potrebbero tornare al Museo di Napoli. Che dire di più? Ancora una volta si trova il sistema più perverso per distruggere qualcosa di importante. Dal cancello sbarrato del Museo di Piedimonte Matese è tutto,